Parlare di scarso senso civico sarebbe fare un complimento all'azione dei vandali che hanno imbrattato non solo le pareti di un edificio scolastico, per non parlare delle cabine telefoniche e dei parcometri di Piazzale Trento nel cuore della città. E non con cuori rossi, come era accaduto qualche tempo fa per le vie di Bassano, quando lo ricorderete, fecero la loro comparsa i disegni su diversi muri cittadini. Allora gli autori furono scoperti. Questa volta il gesto è ancora più grave, è puro sprezzo del rispetto, soprattutto quando ad essere violata è un'immagine sacra. È accaduta la madonnina di pietra situata nel parco davanti alla scuola Mazzini. Con un indelebile nero hanno deturpato la statua disegnando le baffi, barbe e sopracciglia, oltre a una scritta illegibile sulla veste. Pochi metri più in là le bombolette spray sono state usate sui parchimetri, dicevamo, persino sulle scatole elettriche, sulle pareti con scritte e disegno sceni. Un vero e proprio scempio che ha sollevato lo svegno dei nostri telespettatori che hanno chiamato la nostra redazione per segnalarci l'atto vandalico. Ora spetta agli inquirenti trovare gli autori. Grazie a tutti.